Siamo con Amedeo Balbi, professore dell'Università Tor Vergara di Roma e parliamo con lui di esso pianeti, cioè dei pianeti fuori dal sistema solare. Un giorno troveremo vita? È la domanda che ci facciamo tutti quanti, in realtà ce la facciamo da tanti anni, da tanti decenni ed è forse la prima volta che abbiamo delle reali prospettive di trovare una risposta, perché con la scoperta degli esopianeti da una ventina di anni a questa parte cominciamo ad avere un catalogo di mondi da esplorare che nei prossimi anni cercheremo di studiare più in dettaglio e di capire meglio, proprio per cercare le possibili evidenze, le possibili tracce di attività biologica in questi pianeti. Ovviamente quando parliamo di vita fuori dal sistema solare per adesso si parla di vita batterica, quindi non immaginiamo alieni da film hollywoodiani, per adesso sono soltanto batteri. Sì, questo è vero sicuramente per il sistema solare, cioè per la ricerca di vita nel sistema solare che comunque ha un altro filone di ricerca che ha a che fare appunto con l'astrobiologia e con la ricerca di vita nell'universo e nel sistema solare siamo praticamente nelle condizioni di poter escludere che ci sia vita più complessa, tra virgolette, della vita microscopica. Per gli esopianeti ovviamente cominciamo in questo modo, cominciamo a cercare evidenze della vita in generale, quindi è molto più probabile che si tratti di vita microscopica, però in quel caso abbiamo anche qualche prospettiva di più, quindi non lasciamo nulla di intentato, lasciamo aperta anche la possibilità che ci siano delle forme di vita più complesse. Di recente i ricercatori hanno scoperto questo sistema di pianeti che ruotano intorno a questa stella, Trappist 1. È stata una scoperta che ha riacceso in un certo qual modo la luce sulla ricerca degli esopianeti, perché se ne scoprono tanti attorno a stelle molto lontane, però questo sistema è particolare, è particolarmente interessante. Sì, il motivo per cui ha scatenato molto interesse è intanto che è un sistema che ha sette pianeti rocciosi di dimensioni simili a quelle del nostro pianeta, della Terra, e quindi questo già è una cosa unica, insomma, fino adesso tra i sistemi esoplanetari che sono stati scoperti. E quindi l'interesse c'è perché quando si pensa appunto a pianeti che possano avere delle similitudini con il nostro pianeta, automaticamente uno comincia a volare con l'immaginazione e a pensare che possano essere abitabili e magari addirittura abitati. Va detto che però appunto non siamo ancora a questo stadio di conoscenza per Trappist né per altri esopianeti. Si tratta per il momento appunto di sistemi che possono essere interessanti proprio perché verranno studiati meglio in futuro e quindi questa è un'altra cosa interessante del sistema di Trappist, è uno di quei sistemi esoplanetari promettenti che sono anche relativamente vicini al nostro e che quindi con gli strumenti che verranno costruiti in futuro, pensiamo per esempio sia alle missioni spaziali come il James Webb Space Telescope oppure le missioni dell'ESO come Cheops o Plato, eccetera, potranno essere studiati meglio e anche con gli strumenti da terra come l'ALT per esempio che verrà costruito, la cui costruzione verrà terminata da una decina d'anni. Ecco, questi sistemi così più vicini alla terra saranno sicuramente un target, un bersaglio interessante per la ricerca di vita e anche per altre indagini. Grazie per la visione!